A voi tutti gli auguri di una buona giornata, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV, questa è la Rassegna Stampa Occhio ai Giornali che come tutte le mattine vi regala l'informazione fresca dai giornali, giornali che come sempre troverete nella vostra edicola di fiducia noi vi diamo soltanto alcune di queste notizie, i titoli più importanti Cominciamo però dal Santo del Giorno come sempre l'Almanacco oggi è una santa tra l'altro molto amata, molto conosciuta adesso vi dirò anche perché intanto è una santa, stiamo parlando di una santa che è nata a Catania da nobili genitori verso il 250 e poi Sant'Agata è una santa venerata come patrona contro gli incendi e i terremoti e viene inoltre invocata per la guarigione delle malattie del seno il sole è sorto alle 7.20 e tramonterà alle 17.24 il tempo per oggi avremo cielo sereno con temperatura in diminuzione nei valori minimi i venti di brezza tesa, il mare sarà poco mosso attenzione alle gelate al mattino nelle vallate delle zone interne per il resto vedete una regione completamente soleggiata e quindi per oggi godiamoci questa giornata di sole domani invece il tempo comincia a diventare un po' più nuvoloso per questo transito di nuvole alte stratificate le temperature sono in aumento nei valori massimi ma domenica pare che il tempo voglia rovinare l'ultima giornata di carnevale perché vedete la pioggia è soltanto sulla parte settentrionale della regione Marche quindi nella provincia di Pesaro Urbino il tempo per domenica sarà parzialmente nuvoloso con precipitazioni deboli sparse più probabili il pomeriggio, nel pomeriggio della giornata di domenica le temperature sono in aumento nei valori minimi i venti sud occidentali, il mare sarà poco mosso deboli in stabilità nella prima parte della settimana caratterizzata da flussi occidentali con alternanza di sereno ad annuvolamenti più consistenti la verità, la verità di Luca Varani ieri è andata in onda su un canale della tv di Stato una intervista raccolta all'interno del carcere di Teramo dove si trova appunto rinchiuso il mandante dell'agguato con l'acido a Lucia Annibali un'intervista della quale parlano chiaramente tutti e tre i quotidiani il resto del Carlino Luca Varani racconta l'ossessione per Lucia rapporto malato, non le ho mai detto ti amo l'agguato è stata un'idea stupida perché un'idea stupida era quella di rovinare l'auto dovevo fermarli riferendosi poi agli albanesi che hanno eseguito il tutto è questa dunque secondo Luca Varani la mia colpa duetto finale melodrammatico con Leosini che è la conduttrice, l'intervistatrice non passa giorno, dice Varani che non pensi a Lucia se fosse rimasta cieca mi sarei ucciso e spera adesso nel suo perdono vedete naturalmente Lucia Annibali qui a destra e la collega che ha realizzato appunto l'intervista ieri dal carcere la pagina di Fano invece del resto del Carlino pubblica la disavventura capitata ad una mamma Veronica Carpano colpita da una cioccolata in faccia una stecca di cioccolata di 100 grammi che le è arrivata addosso dal carro della Musica Arabita Veronica Carpano colpita con in braccio la figlia di 9 anni e qui c'è il racconto appunto di questa disavventura che può capitare al carnevale di Fano i danni invece del maltempo con le raffiche di vento che hanno toccato fino a 100 km orari questa è la cronaca che arriva da Gabicce Monte dove vedete la fotografia un boato, il tetto si è staccato era come una tromba d'aria parla la custode della villa dell'ex ministro Bernini fino a 100 gli interventi per i pompieri che hanno lavorato anche con la polizia municipale e questo è quello che è successo appunto nella zona di Gabicce la cronaca Gang del Rame arrestato un sergente dell'esercito in servizio a Pesaro un 46enne che affittava il deposito ai romeni predatori del metallo i romeni rubavano mentre gli italiani ricettavano 15 persone sono finite in manette la figlia lo accusa di 15 anni di violenza il padre adesso è finito a giudizio maltrattamenti anche ai fratelli l'uomo pesarese ex dipendente pubblico ora in pensione però respinge tutte le accuse da Fano la Caritas bussa alle porte dei fanesi accogliete nella casa un rifugiato il vescovo Trasarti dice viviamo l'anno della misericordia e dice le famiglie offriranno un tetto e anche i pasti almeno per sei mesi Allegria farima con pediatria giovedì grasso di successo col paese dei Balocchi e Margherita Principi incursione con tanto di getto nel reparto dove sono ricoverati i bambini del Santa Croce all'ospedale di Fano il sindaco Seri tra virgolette si dimette come prevede lo statuto il sindaco passa la mano perché chiaramente per questi giorni ultimi giorni di carnevale c'è un sindaco dedicato apposta essendo Fano appunto la città del carnevale allora adesso andiamo invece e apriamo il Corriere Adriatico anche qui in apertura maschere e fiabe che animano la festa dei bambini aperta la settimana grassa ma i due comici eletti sindaco arriveranno domenica e Margherita purtroppo non è riuscita a cantare chi ha seguito la nostra diretta ieri pomeriggio qui su Fano TV avrà sentito e anche visto che purtroppo Margherita Principi aveva un problema di voce aveva un calo di voce e quindi non è potuta salire sul palco per esibirsi però era lì presente ha salutato insomma è stato un po' con i presenti il problema scusate il proclama scherzoso di Seri spero che i nuovi governatori portino gioia e spensieratezza parlando dei suoi successori che ripeto rimarranno in carica soltanto fino a martedì grasso il carnevale è l'evento centrale per il turismo Marta Ruggeri dei 5 Stelle dice i dolci non bastano si superi la marginalità dei carristi dando rilievo alla satira poi invece Lorenzo Furlani fa i conti in tasca all'ente carnevalesca e ha scoperto che sono in rosso per 4 mila euro contributi degli enti nel 2015 per 232 mila euro di cui 99 mila ai carristi e 58 mila per il getto e parla anche dello sforzo che sta facendo il comune poi abbiamo visto il documento abbiamo parlato di questo documento congiunto della commissione della sesta commissione che prevede 130 mila euro per i prossimi tre anni da dedicare e da riservare appunto al carnevale guardate ma ve l'abbiamo fatta vedere ormai sin da ieri mattina presto siamo stati i primi a battere la notizia e a pubblicare le fotografie della tensostruttura del Lido di Fano ridotta in brandelli dopo le raffiche di vento fortissime che hanno soffiato fino a 100 km orari il nostro osservatorio ieri aveva segnato alle 2 di notte circa la punta massima di 85 km orari la cronaca marito e moglie travolti sulle strisce pedonali centrati da un ragazzo in motorino lungo lo stradone Misa pediatra in prognosi riservata la coppia stava attraversando all'incrocio con via Metauro sul posto è finita la polizia municipale un albero invece su un'auto finisce su un'auto una donna è stata salvata per miracolo raffiche di vento piegano la costa volano tegole da un palazzo lungo il viale Leopardi e alla Fagnani a Marzocca invece è stata abbattuta un insegna pubblicitaria e danni ai cornicioni e ai pali dell'illuminazione poi sotto minacciò una prostituta per il sesso extra un operaio è finito a processo la pagina di Pesaro anche qui raffiche di vento sfiorati 100 km all'ora notte di tempesta con alberi sulle strade strutture infissi pericolanti crolla una porzione di tetto di una villetta vedete qua ci sono tutte le fotografie che raccontano quello che è accaduto nella notte scorsa apriamo adesso invece la pagina di Pesaro del messaggero Campanara Campanara una fiera in affitto si volta pagina è stato pubblicato il bando per la locazione di quattro padiglioni la Camera di Commercio parla di una grande opportunità la Bricofer interessata e vedremo insomma se si riuscirà ad arrivare ad una soluzione Varani parla e dice la sua verità ieri sera la discussa intervista andata in onda sulla Rai poi stroncato il traffico del loro rosso quindi il rame un caporal maggiore è finito tra gli arrestati è stata sgominata una banda dedita al furto di rame il graduato è di stanza a Pesaro andiamo sulla pagina per chiudere del messaggero di Fano la Polo Holding dichiarata fallita a Gimarra dunque la grande incompiuta eccola qua la grande incompiuta un bel biglietto da visita i residenti si chiedono cosa ne sarà degli spazi previsti nell'ex colonia la società aveva iniziato a costruire un nuovo centro per il quartiere ma il patrimonio del gigante dell'edilizia messo all'asta per pagare i creditori sotto invece Andrea Pellegrini presenta il suo libro dedicato ai sentieri del Monte Catria del Monte Nerone sotto acqua il sindaco incontra il forum chiesto ad Aset di avviare una campagna informativa sulle tariffe agevolate direi che possiamo fermarci qui per quanto riguarda la rassegna stampa grazie per la vostra cortese attenzione vi auguro una buona giornata ci vediamo stasera a 23 con il telegiornale e occhio alle notizie